...purtroppo... ...e a 3 da 2... ... la tecnologia... ...e a 2 da 1... ...perché mi sarebbe così... ...e a 3 da 2... ...e a 3 da 2... ...e a 3 da 2... ...l'opera di San Antonio... ...e a 3 da 2... ...e a 3 da 2... ...le a 3 da 2... ...per quanto mi dispensare... ...anche l'amico... ...Di Angelo... ...mi ricordo come si chiama... ...e a 3 da 2... ...e a 3 da 2... ...no, l'amico suo... ...Ci dice da parte... ...e grazie, scusami... ...perché hai detto... ...e a 4 da 2... ...e a 3 da 2... ...non siamo precisi, andiamoci... ... nella cosa... ...è un'altra cosa che ho fatto... ...e a 3 da 2... ...mi ringrazio... ...mi ringrazio... ...a 4 da 3... ...e a 4 da 3... ...e a 3... ...i a 2... ...e a 3... ...ora... ...che dovrei dire... ...dovrei parlare... ...in nome del presidente... ...però prima di tutto vorrei... ...un ringraziamento... ...e a questo bellissimo... ...lo qua... ...Gianfranco... ...Giannini... che è un po' di un bambino, questo bambino dolcissimo, che ha dedicato la borsia alla Palestina. Sapete quante odio c'è tra il re e la Palestina? Che orreggio è stato, è stato, è stato, è stato, è stato, è stato e ci organizzassimo da maci. E non ci fosse avere nessun odio. Purtroppo i bambini insegnano, ma quando sono tutti ci si dimettiono questi insegnamenti. E siamo in una situazione che è stato, 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 è stato un po' di un bambino, per dare il nostro modo di una scina, è vero, è stato. La storia di un uomo, la chiamava Mulder d'Alevese, hanno incaricato la sua bocca e legato le sue mani alla vita dei morti, hanno detto assassino, gli hanno tolto il cibo, le vesti, le barriere. L'hanno rifiutato in tutti i morti, hanno portato lui anche un piccolo amore, però ha detto profilo, tu che vieni le mani sanguinati, la notte è figlia, le gliele delle catene sono distrutte, e non è morto, ma Roma è morto, con i suoi occhi combatti, perché il chicchi della mia spiga che va seccando mi ha tirato il quale di grano. E adesso questa l'ho scritta con papà ieri. Non c'è pace se non divido la mena con i miei compagni, non c'è pace se non perdono il litigio con la mia amica, non c'è pace se non rispetto le regole di scuola, non c'è pace se faccio il culo in classe, non c'è pace se guardo il colore della pelle dei miei amici. Imparate dai bambini, voi avete distratti, guardate il mondo con quei nostri occhi innocenti, e capirete che la macchina del mondo è possibile. Grazie. 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 Grazie.